La trattativa la fa il Presidente del Consiglio, non per conto dell'Italia, non per conto delle forze politiche che sostengono il governo. Non credo che nessuno pensi che in Italia, che al nostro Paese non spetti un portafoglio di grande importanza, è la Vicepresidenza della Commissione Europea, cosa che è sempre accaduta, tranne i concetti nuovi. Quindi non influiscono queste parole? Assolutamente non. Sono giudizi politici, non è il mio linguaggio, ma non influiscono sul peso dell'Italia. Il peso dell'Italia è quello che siamo, in questo Paese, un Paese fondatore, un Paese economico non indifferente. Io credo che l'Italia debba, te lo dirò al Presidente del Consiglio, cambiare un commissario avvenzato anche a Bruxelles, che conosca i meccanismi, debba cominciare perché altrimenti ci sono grandi apprendistate.